Domenica 24 giugno, a partire dalle 15.30, al Centro Polisportivo 2A di Via Roma, si terrà l'evento Welcome Mondiali Antirazzisti in Tour. Una giornata all'insegna dello sport, organizzata dalla UISP e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità. Questo semplicemente vuole essere il modo in cui la città ribadisce i propri principi e il concetto dell'antirazzismo come elemento fondante di ogni comunità. Ma Sport Senza Frontiere non è solo calcio a 5. Infatti durante tutto l'anno vengono organizzate iniziative rivolte alle famiglie e ai bambini, come i terzi tempi quando ci sono le gare o le attività ludico-motorie come quelle organizzate ai giardini di Via Carlo Marx con l'animazione sportiva per i più piccoli. Abbiamo organizzato queste due giornate all'interno appunto dei giardini di Via Carlo Marx per coinvolgere sia i bambini dei campi in scuola che qui volevano partecipare, ma anche i bambini che vengono spontaneamente ai giardini portati dai nonni, proprio per passare questa idea dello sport e del gioco come strumento di aggregazione e di integrazione al di là di tutto. Nei mesi scorsi hanno partecipato alle partite ragazzi provenienti da diverse realtà associative, dagli SPRAR, dai CAS e dalle attività del terzo settore. Giocheremo a calcio, a pallavolo, a badminton, tennis, tennis tavolo, tutti insieme appunto per far passare il messaggio del sport come strumento di integrazione, come strumento di socializzazione.